Non ci sono casi confermati di coronavirus in tutta la Lomellina sud-occidentale e per evitare rischi il sindaco di Mede Giorgio Guardamagna, dopo una videoconferenza con la regione, ha invitato la popolazione a mantenere le precauzioni e a limitare i contatti sociali. Risolto il problema degli studenti e delle superiori che frequentano istituti piemontesi, là inizialmente le scuole avrebbero dovuto riaprire mercoledì e molti ragazzi si sarebbero trovati nella situazione di andare in classe in Piemonte, mentre loro compaesani, magari frequentanti gli istituti di Mortara e Voghera venivano fatti rimanere a casa. Il riallineamento delle chiusure per Lombardia e Piemonte fino a fine settimana ha chiarito la situazione. La regione Piemonte ha emesso l'ordinanza della chiusura delle scuole fino all'8 marzo, questo solleva anche una parte dei nostri ragazzi che come sappiamo vanno a scuola a Casale, vanno a Valenza, alcuni poi vanno anche nelle zone limitrofe del Vercellese e del Novarese, quindi le scuole del Piemonte saranno chiuse fino all'8 marzo e ovviamente seguiamo tutti insieme quello che è l'evolvere della situazione mantenendo, ripeto, responsabilità nei comportamenti cercando di evitare al più possibile i contatti sociali che possano in qualche modo peggiorare la situazione. Un'ulteriore raccomandazione riguarda poi le visite agli anziani delle case di riposo. A medie rimangono consentite ma si chiede ai parenti di effettuarle soltanto se strettamente necessario. Queste visite vanno ridotte al minimo, le persone che si recano a trovare i loro congiunti lo facciano solo se c'è un'effettiva esigenza sanitaria, se il congiunto non sta bene e diversamente cerchiamo di evitare queste visite perché, ripeto, gli ultra 65 anni, chiaramente le case di riposo ne hanno molte, sono i più fragili, i più soggetti. Manteniamo questi comportamenti, cerchiamo di portare pazienza.